Mi sono dell'isola, sono nascita in via Borsiera al numero 8, che adesso la c'è più, ma mi sono innamorata dell'isola e sapevo sempre all'isola vedere. Al mercato. Perché la via Caliero, dove due abiti adesso, mi piace più l'isola. Grazie signora Laura. Niente. Ciao, mi chiamo di lui, sono da Milano, sto a prescente a me, vicino alla Gese di Prato. Ti capi? Ciao, bella gioia. Grazie Luigi. Mi sono da Milano, l'abbiamo 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 da Milano, la sua presenza è un raggio di sole in questa giornata un po' grigia. Mi sono minga di Milano. Baccia Pairato. Mi parlavi proprio milanese, anche se sono minga bonna, però... No, non è vero. Questo è un mercato, però io voglio dire che parla milanese, metta chi lì e dice, senta, già che siamo in Cicciaremo un Cicciaremo un Cicciaremo un Cicciaremo un Cicciaremo grandissima. Quanto anni ha lei? No. Eh, sono anziana. E' del 36. E' del 36. Cicciaremo una di lei che è del 1929. La mia mamma le ne soggiò a grec. Ecco. Il mio papà le ne... pensa che la mia mamma la parlava milanese, benissimo, poi era molto... era molto ironica. E il mio papà invece le era de... le era veneto. Perciò, vien qua parlava... mia mamma la parlava in milanese, il mio papà rispondeva in Veneto. E il mio ci ha passato a dire tutti due. la notte insi serena ma mi me senti mal e scrivi cara mamma su stuf de resta qui el me mila el me chama visi a ti